ciao a tutti ragazzi nella notte sarebbe successo un po di tutto in casa juventus sarebbero uscite alcune indiscrezioni che per forza di cosa dovevamo riportare di cui dovevamo parlare proprio qui sul canale youtube in attesa delle parole di allegri delle 14 30 di oggi che andrà a presentare la sfida della vigilia con la salernitana però per il momento concentriamoci sull'eventus del futuro dell'anno prossimo perché a quanto pare la juve avrebbe deciso di acquistare avrebbe chiuso addirittura tony rudiger tony rudiger e dall'altra parte ci sarebbe quasi una rottura definitiva tra di vale la juventus lunedì ci sarà appunto l'incontro tra le parti in cui bene o male sapremo qualcosina di più ne parliamo nella seconda parte del video prima di tutto vi invito a scaricare one football link qui sotto in descrizione proprio per leggere eventuali aggiornamenti conferme e chissà l'ufficialità magari di tony rudiger alla juventus e di altri giocatori che potrebbero essere acquistati la juve perché non dimentichiamoci mai che per arrivare a fare il mercato questa estate si inizia adesso perché appunto ci sono i parametri zero come rudiger ma chi è tony rudiger perché magari qualcuno non lo conosce così bene rudiger è un ex serie a dopo aver disputato una buona parte di carriera alla roma con anche delle prestazioni di livello viene poi venduto al celsi di antonio conte proprio il nostro ex tecnico che richiede antonio rudiger al celsi per poi passare nelle mani di maurizio sarri per poi passare nelle mani di frankie lampard per poi passare nelle mani di tu che è l'attuale allenatore del celsi insomma rudiger ha un passato in italia alla roma e un passato allenato da due allenatori italiani nonostante il celsi nonostante londra come conte e sarri due ex juve tra l'altro guarda caso nasce il 3 marzo del 93 a berlino quindi a 29 anni è un metro e 90 di altezza quindi un difensore veramente molto fisico dell'originario della sera leone bensì titolare della nazionale tedesca è un difensore centrale di piede destro che gioca al celsi in squadra da luglio 2017 in scadenza al 30 giugno 2022 poi di rudiger possiamo spendere altre parole ovviamente come ruolo poco fa vi ho detto che è un difensore centrale sì certo però può giocare sia da centrale destro sia da centrale sinistro o da terzino destro rudiger è un titolare inamovibile del celsi da quando è arrivato thomas tuchel in realtà con conte è partito titolare anche se non erano proprio un rapporto idilliaco con sarri invece titolare inamovibile con lampard messo da parte a un certo punto quando arriva invece tuchel lo rende titolare assolutamente e diciamo che poi non gli è andata male in questa stagione in premier league 26 presenze due reti e due assist mica male in champions league 7 presenze e anche qui due assist e lo so che cosa state per dirmi però stiamo acquistando a parametro zero un giocatore vicino alla trentina e quindi ma ci avete ragione voi sotto questo punto di vista possiamo leggermente stare tranquilli perché la cronaca infortuni di rudiger ci dice che in realtà è un giocatore che si fa male veramente in maniera complicata è più a disposizione che altro ed è proprio per questo che una volta arrivato la juventus sapete tutti come andrà a finire rudiger verrà acquistato a parametro zero appunto ma ci saranno dei costi e cioè 6 milioni e mezzo all'anno di ingaggio e so che qua qualcuno potrebbe rimanere così un attimo spaventato c'è però da dire una cosa che tramite il decreto crescita ci dovrebbe essere uno sgravo fiscale che lo porterebbe a guadagnare qualcosina in meno rispetto a quello che era bio io adesso qua vi metto la tabella giornata degli stipendi juventus bene o male andresti a pagarlo qualcosa come 9 milioni di euro l'anno per 4 anni 9 per 4 36 quindi meno di 40 milioni in 4 anni per concludere rudiger ha vinto è un giocatore che ha vinto è qualcosina di importante del tipo vabbè la coppa d'inghilterra col chelsea ma soprattutto una uefa ropa league una uefa champions league una super coppa uefa e una coppa del mondo per club oltre a confederation cup con la germania nel 2017 insomma stiamo assolutamente parlando di un giocatore che ha una certa mentalità ha una certa esperienza internazionale e sicuramente andrebbe a darci una mano in quei momenti di difficoltà estremi come l'altra sera quando andiamo sotto col villareal per lo a zero a farci capire che no la partita non è finita è uno un leader un giocatore leader perché ha vinto e ha giocato a questi livelli e quindi per forza di cose è un giocatore diverso dagli altri per forza di cose no però l'augurio è questo è ovvio che è un acquisto che va in controtendenza rispetto a quella che è la linea che vuole seguire la juventus e che ha deciso di seguire la juventus da qualche anno a questa parte cioè giocatori giovani ben più giovani dei 30 anni e con ingaggi al ribasso poi è ovvio che se vai ad acquistare un parametro zero l'ingaggio devi darlo più in alto rispetto agli altri per forza di cose perché non paghi il cartellino e quindi diventa un profilo appetibile sul mercato per altre società io sono dell'idea che Rudiger sia un buon colpo un ottimo colpo perché sta giocando veramente molto bene è titolare del Chelsea campione d'Europa e soprattutto non fare solo acquisti di quel tipo non significa non seguire una linea che si è dettata si possono benissimo anche fare delle eccezioni dei strappi alla regola per giocatori importanti e che ti servono come Rudiger non dimentichiamoci che non più tardi di ieri ho ribadito ancora la stessa cosa cioè ci serve un difensore centrale perché purtroppo Chiellini in questo momento ragazzi sappiamo tutti qual è la situazione non può essere considerato un giocatore della Juventus a tutti gli effetti perché c'è praticamente mai e lui è il primo a sapere a stare male per questa cosa e quindi ci serve assolutamente intervenire lì poi un nome fantastico che poteva esserci era quello di Bremer che è un giocatore giovane che quest'anno in Serie A sta facendo benissimo da quel lato portare moneta a vedere cammello diceva lo Tito quindi costerà sicuramente tanto e non va a portarti tutta quell'esperienza europea che invece ha Rudiger e ovviamente me lo sto immaginando con Matthijs De Ligt perché se con Matthijs De Ligt abbiamo bisogno di un acquisto in più per formare una difesa di livello se togliamo anche Matthijs De Ligt cosa facciamo? Quanti ce ne servono ancora? e non più tardi proprio di ieri vi parlavo di un Bonucci che nonostante negli anni abbia avuto sempre una costanza di rendimento negli ultimi tempi in realtà stava facendo fatica e che quindi sarebbe dovuto diventare una sorta di titolare barra riserva attenzione perché Rudiger insieme a De Ligt e Bonucci potrebbe addirittura andare a formare una difesa a tre Rudiger stesso al Chelsea gioca in una difesa a tre quindi potrebbe esserci anche quell'opzione lì sicuramente un profilo adatto per Massimiliano Allegri un giocatore esperto, un giocatore maturo, un giocatore che sa gestire determinate pressioni perché se no sinceramente non puoi essere titolare né del Chelsea né della nazionale tedesca e per così tanto tempo e sicuramente non del Chelsea che va a vincere anche in Europa e con un allenatore bravissimo come Tuchel quindi il mio è un grande sì all'acquisto di Tony Rudiger che viene confermato anche dal fatto che in realtà l'esborso economico non è eccessivo e dal fatto che questo è un giocatore che storicamente non si fa mai male mi aggancio a questa cosa qui perché in teoria ci sarebbero delle riflessioni inerenti allo staff tecnico di Massimiliano Allegri per la prossima stagione perché dovrebbe essere confermatissimo Massimiliano Allegri per la prossima stagione visto che è stato fatto un contratto di 4 anni si sta pensando di allontanare Folletti responsabile preparatore atletico per andare a cercare un altro profilo per limitare i tanti infortuni avuti quest'anno soprattutto nel momento decisivo e cioè è per questo che voglio sapere a parte vostra siete pro o contro l'arrivo di Tony Rudiger? secondo me è un ottimo modo di iniziare il mercato perché ovvio non sono qui a dirvi oh Rudiger vince alla Champions no però è un tassello importantissimo che va aggiunto alla Juventus è un giocatore che a me piace e anche tanto sono sicuro che possa darci veramente molto lì di dietro però ora voglio anche qualcos'altro questo è ovviamente il primo passo essendo un parametro zero attenzione che nel Chelsea potrebbero esserci situazioni complicate e si parla pure di Giorginio ma di questo poi vedremo più avanti sicuramente quest'estate per quanto riguarda Paolo Dybala la storia è molto semplice e cioè a quanto pare come riportato dalla Gazzetta dello Sport che è la stessa Gazzetta dello Sport che ha riportato la notizia di Rudiger Juve nell'allenamento di ieri Dybala è quadrado in quanto i due capitani della Juventus dato che Chiellini e Bonucci non erano disponibili per l'allenamento a quanto pare non c'era Chiellini perché sennò l'avrebbe avanzata Chiellini o forse Chiellini stesso non era a favore di questa cosa uso il condizionale perché ragazzi è un articolo di Gazzetta sto riportando quello che a quanto pare sarebbe accaduto durante l'allenamento che è ovvio non c'era il giornalista presente quindi è una cosa che è stata ulteriormente riportata al giornalista quindi Quadrado e Dybala vanno da Massimiliano Allegri per chiedere qualche ora libera in più da parte di tutta la squadra nella giornata di oggi di vigilia con la Salernitana e questa cosa da Ligri non sarebbe piaciuta che avrebbe risposto a Dybala Paolo proprio tu mi fai questa richiesta dopo tanti mesi di essenza dopo tante giornate di infortunio proprio tu mi fai questa richiesta alla vigilia di un match così importante dopo che siamo stati eliminati per 0-3 fine questa è la lite a me non pare una lite cioè è una richiesta ammesso e non concesso che sia accaduto è una richiesta che i giocatori fanno non bellissima per quanto mi riguarda la tifosa lo devo proprio dire nella più totale tranquillità non bellissima perché se si è chiesto delle ore in più di libertà quando in realtà domani con la Salernitana ragazzi dopo una sconfitta del genere bisogna portare a casa il risultato al 101% cioè non c'è margine di errore non si può sbavare in nessun modo però secondo me parlare di lite è un po' eccessivo poi dall'altra parte sapete come la penso secondo me la Juventus in questo momento non ha intenzione di rinnovare Paolo Di Bala lunedì sicuramente ne sapremo di più credo che uno dei pochi all'interno della Juve che sia rimasto a supportare Paolo Di Bala sia proprio Allegri quindi è ovvio che se effettivamente c'è stata un'artura tra Di Bala e Allegri questo è molto negativo per Paolo Di Bala ma sicuramente lo impareremo oggi perché ci sarà la conferenza stampa tra poco e quindi ad Allegri verrà fatta questa domanda toccherà questo tasto vedremo che cosa succederà bene o male queste sono le due notizie di oggi Rudiger che dovrebbe entrare Di Bala sempre più vicino alla partenza al non rinnovo con la Juventus che potrebbe invece lasciare Torino fatemi sapere un po' cosa ne pensate ci vediamo tra poco con la conferenza stampa di Massimiliano Allegri Grazie Grazie a tutti.